Questa sera, seconda puntata di Ballando con le stelle, Simona Ventura, nostra grande ballerina per una notte in una veste assolutamente inedita, con una crew, con un gruppo di ballerini dominicani scatenati per un reggaeton, una fusion particolarissima. E poi la nostra gara con tutti i nostri personaggi, Giuseppe Versace, Giorgio Albertazzi, Joe Masca, Giulio Berruti, Giorgia Surina, insomma il nostro grande cast per una serata piena di sorprese che va tutta vista e commentate insieme, commentate, mandatemi ancora le vostre domande per Simona Ventura perché le faccio in diretta. Vi aspetto, ciao!